Ciao raga, bentornati sul mio canale youtube! E' da un po' che non vi portavo un video su tattiche e istruzioni Oggi non ne andiamo a vedere alcune per modulo in particolare Ma andiamo a vedere quello che è il mio game plan totale Quindi quelle che sono tutte le mie formazioni che utilizzo durante la partita Quindi la mia formazione di base, la mia formazione che magari mi può aiutare a difendere il risultato E quella che mi può permettere invece di andarlo a recuperare Ci sono delle formazioni che già abbiamo visto ma anche delle formazioni nuove E quelle che abbiamo visto sono state un pelo rivisitate Quindi ci tenevo a portarvi il video con le tattiche aggiornate Senza perderci ulteriormente in chiacchiere Passiamo subito sulla schermata di gioco Dove ci attende la mia squadretta che andrò a utilizzare in quelle che sono le prossime qualifiche Abbiamo il buon aereo là in porta, difesa solita C'è lo switch tra James che diventa DC e Cancelo che va a fare il terzino Stovaran che andrebbe cambiato con una versione speciale visto che questo fa un po' di fatica Mediana Bruno Renato Sugli esterni Kulusevski e Neymar davanti Mbappé Totti e Ronaldo Perché Mbappé Totti e non Ronaldo Totti? Perché tra Mbappé e Record Breaker che è il 91 e Mbappé Totti c'è una bella differenza Mentre tra Ronaldo e Ronaldo Totti secondo me la differenza non è così ampia da giustificare Quello che è un prezzo così alto Quindi questa è la squadra In panchina abbiamo poi Sharabi Klyber e Mbappé pronti a dare una mano a partita in corso Per quanto riguarda le tattiche io direi di partire immediatamente da quella che è la mia formazione di base Ossia il 4-4-2 Eccolo qua Solito 4-4-2 Stile di difesa equilibrato Vi ho spiegato già un miliardo di volte come preferisca io andare a gestire la mia fase di non possesso Scegliendo quando voler azzardare il pressing e quando invece adottare quello che è un atteggiamento più passivo Quindi esattamente equilibrato Ampiezza che passa da 5 a 4 Profondità che rimane invece 7 Perché adoro il fatto che si va a spammare la trappola del fuorigioco in automatico Stile di attacco equilibrato Con ampiezza che passa a 5 E giocatori in aria che passano a 4 Quindi esattamente l'opposto Prima invece era 4-5 Quindi ho preferito avere un pelo in più di ampiezza per sfruttare meglio le fasce E un'attacca in meno di giocatori in aria per andare a costruire più l'azione al di fuori E all'interno dell'area avere solamente le due punte di riferimento Per quanto riguarda le istruzioni Non ci inventiamo nulla perché abbiamo Ai terzini resta dietro in attacco Ai due cc resta dietro in attacco Copri al centro Nulla agli esterni Quindi molto molto basico E poi per quanto riguarda le due punte abbiamo Inserisciti alle spalle E questa è diciamo la formazione che io vado a utilizzare Appena inizia la partita Quindi con la quale vado a costruire tutti i 90 minuti Il mio modulo base Diciamo così Qualora la partita invece si mette in maniera a me favorevole Quindi per cercare di difendere il risultato Vado a utilizzare il 5-3-2 5-3-2 che però vede una chiave rivisitata Perché abbiamo equilibrato con ampiezza 3 Visto che il 5-3-2 è una formazione che fa della sua densità Lì davanti alla difesa la sua arma Ma in più quindi a piezza 3 va a stringere ulteriormente la squadra E in più avendo un difensore centrale appunto aggiuntivo I due terzini possono comunque staccarsi Se arrivano minacce dall'esterno Poi la profondità in questo caso 5 Per evitare che la trappola del fuorigioco Vada a creare pericolosi buchi nella difesa Che invece preferisco che sia quanto più possibile Barricata insomma e arroccata all'interno E non troppo in alto Per quanto riguarda lo stile d'attacco Abbiamo ampiezza 6 Perché chiaramente col 5-3-2 vogliamo sfruttare terzini Vogliamo sfruttare quindi la superiorità numerica Che si viene a creare proprio sulla zona esterna del campo Giocatori in aria 5 Quindi senza che si venga a creare troppo traffico Giusto quei giocatori di riferimento Che però rispetto a un 4-4-2 Vede quella che la ricerca magari in maniera un po' più Frequente della palla filtrante Soprattutto in fase di ripartenza Recuperate il pallone e cercate di andare in contropiede Con quella che è una ripartenza Quindi qui potreste anche pensare a utilizzare palla lunga Infatti ogni tanto io utilizzo anche palla lunga In quelle partite dove magari il gameplay è un po' più pesante Ho bisogno che i miei giocatori vadano a fare qualcosina in più E lo vadano a fare un pelo in automatico Poi angoli e punizioni molto molto standard Solitamente su angoli avevo 1 sono passato a 2 Visto che ormai i calci d'angolo abbiamo visto che sono dei rigori Praticamente quindi voglio che si venga a fare un po' di densità Vado a selezionare Cristiano Ronaldo con lo schema E poi in realtà gli altri vanno semplicemente a creare paura Al mio avversario Per quanto riguarda le istruzioni Abbiamo terzini su resta dietro in attacco Questo perché? Perché vado io a selezionare con il tastierino i terzini offensivi Quindi freccia giù freccia sinistra Qualora ne ho bisogno Scusatemi freccia su freccia sinistra Qualora ne ho bisogno Perché altrimenti visto che questa è una formazione Che io utilizzo per difendermi Mi ritroverei spesso e volentieri con i terzini fuori posizione Quindi non sarebbe un qualcosa di molto positivo Per quanto riguarda le due mezze ali Abbiamo resta dietro in attacco Resta al limite per il cross Copri al centro Stessa cosa Quindi anche per quella di sinistra Mentre per quanto riguarda quello centrale Ho copri al centro ma attacco equilibrato Perché solitamente questo centrale un po' si sgancia E comunque va a dare un pelo di supporto in più A quelle che sono le due punte Che sono impostate su attacco misto Perché vado io a gestire Quello che è l'inserimento con l'L1 Per far scattarli Però abbiamo rientra in difesa Che va a fare esattamente l'equivalente Del ripiegamento attaccante Però preferisco di averlo così di default In maniera tale che Insomma vengono a dare una mano A quella che è una formazione appunto bunker Per difendere le partite Poi passiamo a quelli che sono i due moduli Che utilizzo per recuperare i match Ok? Primo modulo È un modulo che non avevate ancora visto Che è una variante in qualche modo Del 5-3-2 Del 5-2-1-2 Quindi si perde un uomo a centrocampo Che diventa trequartista Trequartista fondamentale tra le linee Soprattutto per andare a disarroccare Le difese avversarie Quindi abbiamo anche in questo caso Equilibrato 4-4 Per fare densità al centro E profondità 4 Per evitare appunto che la difesa 5 Venga a farsi cogliere in preparata Con il fuorigioco automatico Abbiamo poi Stile di attacco equilibrato Con ampiezza 6 Sempre per il solito discorso Di sfruttare le fasce Giocatori in aria In questo caso 4 Perché voglio sfruttare La presenza del CC Che va a innescare le punte Non voglio che il mio CC Si ritrovi in aria Senza che io Insomma Glielo richiedo Per quanto riguarda le istruzioni In questo caso Abbiamo Sovrapponiti Ai due terzini E attacco equilibrato Che potete poi scegliere Di mettere sempre col tastierino Sul terzini offensivi Qualora abbiate bisogno Di maggiore supporto Per quanto riguarda invece I due mediani Diciamo così Abbiamo resta dietro in attacco Copri al centro Per il trequartista Abbiamo Esattamente Nulla E invece Alle due punte Abbiamo Inserisci alle spalle E rimane avanti Quindi perché voglio Che rimangano sempre fisse Come riferimenti Lì davanti E non si vengano mai A far trovare Fuori posizione Per quanto riguarda Neymar Non utilizzo Il rimane avanti Perché il rimane avanti Lo farebbe rimanere A ridosso E l'area di rigore Quindi si andrebbe a perdere La funzione di raccordo Tra attacco e centrocampo Tipica del COC Quindi Esattamente Base Per il buon Per il buon Neymar E poi Ultimo modulo Dulcis in fundo E il 4-3-1-2 Che subisce una variazione Rispetto a quello Che era stato Il 4-3-1-2 Che vi avevo portato In precedenza Perché se non errore Su quell'altro Avevamo pressing Sul primo controllo Stavolta invece Abbiamo pressing Una volta persa palla Con 4 di ampiezza Perché voglio appunto Che la squadra Essendo un 4-3-1-2 Quindi un modulo similrombo Sfrutti Questa sua compattezza centrale E stavolta Profondità 7 Che in situazioni disperate Diventa anche 10 Quindi per farsi Che i miei giocatori Siano a ridosso Degli avversari E compressi Una volta persa palla Li vadano a recuperare Maggiormente Stile di attacco Equilibrato Quindi a gestire Quella che è la palla Sono esattamente io Cosa che può tramutarsi Anche in manovra veloce Sempre se magari Il gameplay è un po' lento Ampiezza 1 Ragazzi Dite che sei impazzito No ragazzi Ampiezza 1 Perché l'ho visto Da uno che me l'ha giocato contro Cioè aveva i giocatori Attaccati Cioè aveva sempre Quegli scambi 1-2 veloci Tra i suoi giocatori Ragazzi Ampiezza 1 Chiamatemi pazzo Provatela Con sto modulo E poi ne riparliamo Giocatori in aria 8 Perché qua Ragazzi Voglio inserimenti Dalle mezze ali Voglio il Coc Che si butta dentro Voglio il terzino Che si sovrappone Voglio una cacciare In aria di rigore Devo recuperare la partita Voglio che succedano Quante più situazioni Sporche possibili Angolo e punizione Sempre 2-2 Passiamo a vedere Quelle che sono invece Le istruzioni Perché abbiamo Sui terzini Sempre sovrapponiti Con attacco equilibrato Che può divenire Un terzini offensivi Qualora ne abbiate bisogno Abbiamo poi Il mediano Su resta dietro in attacco Copri al centro E intercettazioni aggressive I 2cc su copertura sulle fasce Resta dietro in attacco Entra in aria per il cross E intercettazioni aggressive Per sfruttare quel pressing Una volta verso palla Che quindi Li rende ancora più aggressivi Poi abbiamo Il Coc Su rientra in difesa Ed entra in aria per il cross Perché rientra in difesa? Perché Così Rientra anche lui Subito a dare una mano In quella che è la fase di pressing Fondamentale Con questo modulo Per recuperare subito Il pallone Soprattutto nella metà campo avversaria E poi sulle due punte abbiamo Inserisci alle spalle Rientra in difesa Anche qui Perché questo rientra in difesa Non vuol dire che loro Non attacchino Ma bensì che una volta persa palla Scappano subito all'indietro E aggiunto al pressing Una volta perso il pallone Vanno a cercare Il recupero palla Anche loro Quindi praticamente L'avversario si trova Subito asfissiato Da quella che è una Morsa da parte vostra Molto molto efficace Sempre se Riuscite poi comunque A eseguire tutti gli switch Con precisione Ecco Non è che vanno in automatico E Quindi questo Per quanto riguarda Il 4-3-1-2 Poi niente Suo equilibrato Insomma Non lo utilizzo Switch immediatamente Quindi queste erano Le mie tattiche aggiornate Il mio game plan Col quale Andrò ad affrontare La qualifica Di questo fine settimana Ieri sono arrivato Secondo In un torneo Organizzato Da una piattaforma Oggi sono perso In semifinale Quindi Sto giochicchiando Anche abbastanza bene Speriamo Di ottenere Un buon Un buon risultato E nulla Raga Io Vi saluto Vi ricordo Di lasciare un like Un commento Iscrivetevi al canale In descrizione Trovate tutte le info Sulle live giornaliere Sulla piattaforma viola E a me Appunto Non resta altro Che augurarvi Una buona giornata E nulla Un saluto Nel vostro Ciao Ciao raga Grazie a tutti.